Ciao ragazzi, io sono Nicolò. Bentornati a SoulCaller, l'appuntamento settimanale in cui diamo un'occhiata a tutto ciò che sta succedendo nel mondo delle sneakers. Durante questo episodio vedremo qualche nuovo leak, ma soprattutto finalmente una bella release. Non perdiamo tempo e cominciamo. E come sempre si parte da un'occhiata alle release di settimana scorsa, degne di nota, e in questo caso secondo me ce n'è stata in realtà soltanto una, che è quella delle Nike SB Dunk Low in versione Court Purple. Grande ritorno dopo qualche anno di una J-Pack, quindi un SB ispirata a colori classici di modelli Jordan, che ha riscosso un discreto successo. La scarpa è andata sold out, ma non immediatamente. Ha richiesto comunque qualche ora, se non più o meno una giornata intera. Il prezzo di retail era di 130€ e non immagino che quello di Resell sarà particolarmente alto. Oltre questo non abbiamo visto particolar release interessanti. Passiamo quindi a vedere qualche leaks che è emerso durante gli ultimi giorni. Innanzitutto abbiamo visto le immagini della Jordan 1 High in colorazione Dusty Clay e devo dire che onestamente non è affatto male questa scarpa. Colorway molto particolare, sicuramente si tratta di una scarpa parecchio delicata, avendo la Tomaya quasi interamente in Nubac, però devo ammettere che questa colorway così pastello e così opaca mi piace particolarmente. E devo dire che anche il nome è stato scelto particolarmente bene. Sicuramente non sarà estremamente appata, quindi se vi interessa non dovreste avere poi eventualmente particolari problemi a riuscire a prenderle. Abbiamo già le immagini ufficiali, quindi mi aspetto che non passerà molto tempo da oggi alla data effettiva di release. Qualche settimana al massimo. Poche settimane fa è emersa la notizia della Jordan 3 in colorazione Black Cat, prevista per Holiday 2024, quindi la stagione intorno a Natale. Ora è emersa anche la notizia di una Jordan 5 in versione Black Cat, quindi completamente nera. Queste versioni di Jordan hanno sempre un grandissimo successo e hanno sempre un grande interesse. Per il momento non abbiamo immagini ufficiali né di una né dell'altra scarpa, ci toccherà attendere ancora un po', ma appunto come dicevo sono entrambe previste per la stagione invernale 2024. Altra Jordan che a quanto pare arriverà durante lo stesso periodo è la Jordan 64 in versione Orchid, di cui qui abbiamo un mock-up che non è assolutamente confermato. Si tratterà quasi sicuramente di una release da donna e a giudicare dal color blocking la color brand dovrebbe assomigliare a qualcosa del genere, potrebbe assomigliare a qualcosa del genere o potrebbe essere completamente diversa con materiali completamente diversi. Mi raccomando quando vedete le immagini delle scarpe, soprattutto tramite Instagram, leggete anche nella descrizione se si tratta di un'immagine ufficiale o semplicemente di un mock-up, quindi un'immagine renderizzata creata appositamente solo per dare un'idea di come potrebbe essere la scarpa, ma non è quasi mai niente di ufficiale in queste situazioni. Passiamo a un leak abbastanza interessante, ma scarpa che io trovo leggermente deludente. Sto parlando della Air Max 1 in versione 86 in collaborazione con Jacques Mews, il famoso luxury brand francese. Questa volta ha messo a mano appunto sulla Air Max 1 in versione 86 e vedremo ben due colorway, una in versione bianca con dei dettagli semi-ingialliti e l'altra in versione argentata, cosa che sta andando parecchio di modo ultimamente a quanto pare. Devo dire che dal primo sguardo non mi hanno convinto per niente, ma guardandole più a fondo devo dire che continuano a non convincermi per niente. Già la versione 86 dell'Air Max 1 ha la Air Unit leggermente ingrandita rispetto alla versione normale. In questo caso Jacques Mews ha deciso proprio di esagerare e fare una vera e propria finestra che ci mostra praticamente tutta l'Air Unit che troviamo all'interno della suola, proseguendo anche a rialzare la suola e renderla ancora più spessa e ancora più alta. Cosa che poi hanno rimasto lo swoosh classico per andare a sostituirlo con questo piccolino metallizzato, cosa che abbiamo già visto anche sulla Air Force 1 che sono andati a praticamente disintegrare. Tutto sommato penso che avrebbero potuto fare di peggio, ma avrebbero potuto fare anche di meglio. Sono molto curioso di sapere voi cosa ne pensate e sicuramente la versione emergento non mi ha convinto per niente. Ovviamente se volete informazioni di più riguardo a queste release e avere qualche probabilità in più di riuscire a copparle vi conviene entrare a far parte di un Q Group. Quello che vi consiglio io da parecchi mesi a questa parte è Fury Notify, un gruppo al 100% italiano dal costo di 25 euro al mese che vi aiuterà a coppare tutte le release che vi interessano sia per eventualmente andare a fare del resell, quindi guadagnare soldi, sia per semplicemente riuscire a risparmiarne non dovendo andare ad acquistare al prezzo di resell. I principali servizi che offrono sono ovviamente le liste delle raffle e le liste delle release supportati da dei monitor completamente customizzati super veloci che potrete personalizzare anche voi ulteriormente andando a selezionare le scarpe per cui volete ricevere le notifiche. Oltre a questo uno dei grandissimi punti di forza di Fury Notify è l'assistenza 1 a 1 specializzata, disponibile 24 ore su 24 che vi aiuterà sia a introdurvi in questo mondo che a risolvere ogni dubbio anche per situazioni di livello un po' più esperto. Se volete saperne di più o volete direttamente entrare a far parte di Fury Notify come al solito trovate il link nella descrizione del mio video. Di nuovo a parlare di un brand che ultimamente è sempre più spesso sulla bocca degli sneakerheads e non mi convince tantissimo questa cosa. Sto parlando di Crocs che ancora una volta o dovrei dire ancora tre volte ha deciso di andare a prendere dei cartoni animati e spiaccicarli al di sopra della loro classica clog. In questo caso i personaggi di cartoni animati saranno Patrick Stella, proprio quello di Spongebob, due versioni dedicate all'anime Naruto e per concludere anche altre due versioni dedicate a Woody e Buzz di Toy Story. Premesso che la realizzazione secondo me della Crocs è sempre molto ben fatta, io onestamente questo genere di calzature non le indosserei mai. Io le vedo molto come semplici oggetti da collezione dedicati agli appassionati del brand o del cartone animato con cui sta andando a collaborare Crocs, cosa che finora con tutti i cartoni animati con cui hanno collaborato non sono andato a ritrovare particolarmente. In ogni caso sono molto curioso di sapere voi cosa ne pensate del lavoro che sta facendo Crocs ultimamente con la sua clog e se secondo voi stanno oversaturando il mercato o se dovrebbero continuare secondo questa strada. Ma andiamo a parlare rapidamente di un rumor che sta emergendo e che è emerso durante questi giorni. A quanto pare si vocifera di una collaborazione tra Kobe e Nike SB. Rumor che molto rapidamente è stato calmato direttamente da dei membri del team di Nike SB. Questo perché a quanto pare Vanessa Bryant non ha ancora visto il progetto e non ha ancora firmato nulla quindi ci sono altre probabilità che verrà tutto quanto rimandato o completamente annullato. Tantissimi non lo sanno ma non sarebbe la prima volta che si vede una scarpa in collaborazione tra Kobe Bryant e Nike SB. L'unica che è stata rilasciata finora era una Eric Costone One dedicata appunto al cestista creata parecchi anni fa purtroppo però non ha mai visto una release ufficiale. Si tratta quindi di una scarpa estremamente rara e posseduta solo da alcuni dei più grandi collezionisti al mondo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Voi sareste contenti di vedere una collaborazione del genere o meno? Io se posso dirla tutta la vedrei come una cosa un po' troppo forzata per mischiare l'hype di due collaborazioni, due dipartimenti potremmo dire di Nike che stanno funzionando bene. Forse onestamente la eviterei e la trovo non proprio necessaria però fatemi sapere voi che cosa ne pensate nei commenti. Sempre rimanendo a parlare di SB diamo un'occhiata a quella che probabilmente sarà una delle SB migliori che vedremo quest'anno ovvero quella in collaborazione con i laboratori di futura. Sicuramente una colorway molto molto particolare molto accesa molto artistica oserei dire che sta piacendo veramente tanto. A me personalmente sta piacendo veramente molto molto tanto. Da queste immagini possiamo vedere meglio i dettagli e le trame che compongono la scarpa. Molto probabilmente la trama che vediamo sui pannelli sarà leggermente diversa tra una scarpa e l'altra o almeno questa è una mia presunzione che non ha assolutamente conferme. Dalle foto si può vedere molto bene i lacci abbastanza particolari in stile un po' union ovvero che iniziano di un colore e finiscono di un altro. Sicuramente una cosa molto particolare anche se non lo so forse mi disturba leggermente da vedere. Brand in futura su diversi punti dell'atomaia insieme anche ad alcuni dettagli reflective. Quello che non si riesce a capire è se l'atomaia la parte bianca dell'atomaia è effettivamente reflective anche quella o semplicemente è la fotografia che ci fa questo effetto un po' strano. In ogni caso come potete vedere l'atomaia è completamente in canvas. A parte lo swoosh non troviamo nessun pannello in pelle e la cosa che forse mi preoccupa leggermente è vedere l'atomaia le parti colorate dell'atomaia avrei leggermente paura che potrebbero perdere un po' di colore andando a rovinare la parte bianca dell'atomaia. Anche questa è una mia presunzione e bisognerà vedere semplicemente una volta che arriveranno le scarpe. Al momento non abbiamo ancora una data di release prevista ne sappiamo quanto saranno limitate se saranno limitate solo a determinati paesi o meno questa informazione al momento non è ancora né confermata ne vedo particolari rumor fondati in giro. Un evento che raramente capita Jordan ha deciso di prendere una PE una player exclusive e renderla general release. Per chi non sapesse cosa sono le player exclusive sono quelle scarpe dedicate soltanto ai giocatori che vengono create ad hoc per delle squadre e vengono distribuite solo ed esclusivamente ai giocatori. Questo significa che ogni singola volta le scarpe sono in tiratura limitatissima in base ovviamente al numero dei membri della squadra e si tratta di scarpe create in modo estremamente curato con materiali eccellenti e generalmente sono anche molto molto belle. In questo caso quanto pare Jordan ci vuole dare una versione probabilmente molto simile e non identica della Jordan 1 Low dedicata agli Howard Bison. Scarpa sicuramente molto bella che offre questa tomaia molto molto simile alla Jordan 1 Chicago che però al posto del nero presenta un blu navy. Sicuramente è una scarpa molto molto bella e sicuramente ci possiamo aspettare una Jordan 1 Low davvero particolare e davvero molto richiesta. A differenza di tante altre volte in cui Jordan ci ha riproposto una versione molto simile a delle PE che erano state già rilasciate come ad esempio la Jordan 3 UNC o la Jordan 5 Oregon Ducks. In questo caso potremmo anche vedere del branding dedicato agli Howard Bison cosa che appunto finora non si è ancora vista. In ogni caso manca ancora parecchio tempo visto che la release è prevista per holiday 2024. Infine una notizia che tantissimi stavano aspettando me compreso finalmente abbiamo una data di release indicativa non ancora confermata al 100% come sappiamo benissimo per quanto riguarda le jump and jack. La data al momento è il 30 di aprile. Come al solito indicativa ma è comunque meglio averla che non averla tanto per avere un'idea del periodo e per capire quanto ci tocca ancora aspettare. A quanto pare la prima colorway che verrà rilasciata sarà questa University Red cosa che non mi fa impazzire onestamente non è sicuramente la mia colorway preferita tra quelle che abbiamo visto finora. Però in ogni caso avere una data di release ci fa capire che in realtà non manca poi così tanto. Andiamo a chiudere l'episodio dando un'occhiata a ciò che ci aspetta questa settimana. Non abbiamo molto ma quello che abbiamo è abbastanza interessante. Cominciamo con un grande ritorno il 2 di febbraio la Dunk Low SP in versione Brazil. Prezzo di retail 130 euro. Si tratta del ritorno di una Dunk Low che nel 2020 ha riscosso un grandissimo successo e ha avuto anche dei prezzi di resell piuttosto alti. Una delle prime Dunk Low che hanno iniziato a generare l'hype per la silhouette insieme a modelli come le Kentucky, le Syracuse, le University Red. Però onestamente non mi aspetto che riscuoteranno lo stesso successo. Mi aspetto un calo di prezzi veramente drastico a seguito di questa release e in realtà non mi aspetto nemmeno che andranno effettivamente sold out. Sempre lo stesso giorno però vedremo un'altra Dunk sull'applicazione sneakers che è la Light Armory Blue sempre prezzo di retail 130 euro e onestamente a me questa piace molto di più rispetto alla Brazil. Infine si va a concludere con una release molto molto attesa da tantissime persone che è la Jordan 3 Ivory nella versione Kraft. Prezzo di retail piuttosto altino di 220 euro purtroppo partirà soltanto dal 40 in su quindi tutte le taglie da donna e bambino non sono state proprio prodotte e a quanto pare saranno leggermente limitate quindi mi raccomando se volete provare ad acquistarle non dormite alle 9 del mattino ma dovete essere pronti a provare sull'applicazione sneakers. Questi sicuramente andranno sold out molto in fretta e sarà piuttosto difficile anche riuscire a trovarne un paio a seguito della release. Per questo episodio di Soul Corner è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate del lavoro che sta facendo Crocs e fatemi sapere se anche voi come me siete emozionati per la release delle Jump'n'Jack ma siete delusi per quale collab verrà rilasciata per prima. Come al saluto se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel like e iscrivervi al canale e noi ci vediamo alla prossima!